Non voleva essere filmata nella sua abitazione, così avrebbe pensato li fa scappare vicino di casa, lanciandogli un sasso da balcone. Protagonista della curiosa vicenda è un'anziana di Pratola Pedigna, che proprio ieri, nel giorno del suo 96esimo compleanno, è dovuta comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale di Sulmona per il processo che la vede imputata per lesioni aggravate e stalking, assieme figli CR uomo e CR donna. Non solo, l'anziana dovrà essere sottoposta anche a una perizia per accertare la capacità di intendere e volere a momento dei fatti e quindi la capacità di stare in giudizio. L'incarico è stato affidato al perito Mario di Napoli. La vicenda fa riferimento a una vecchia bega di quartiere che si è trascinata negli anni fino alla coda giudiziaria. A intentare la causa è stata una coppia della cittadina Peligna. Diverse sarebbero state le iniziative giudiziarie e assuntere entrambe le parti per tutelare i diritti su una strada comune. Sul cruscotto dell'auto delle persone offese venivano lasciati dei bigliettini con l'invito avvertimento di non sostare con il proprio veicolo. La coppia ha quindi lamentato di aver riportato lesioni di tipo psicologico da riscontrare in sede processuale poiché entrambi sarebbero stati minati sotto il profilo della salute psichica. Due episodi, fra i tanti, sono finiti sul tavolo del giudice. L'aggressione perpetrata dal figlio dell'anziana quando avrebbe preso per il collo vicino di casa e il lancio di un sasso da balcone che vede protagonista proprio la 96enne. Stando al quadro accusatorio, la donna, presa dallo sconforto di essere stata ripresa e immortalata da suo vicino, avrebbe lanciato un sasso da balcone ma gli inquirenti escludono che la persona che stava girando il video sia stata attinta dal colpo. Un quadro probatorio, tutto da riscontrare, ma prima di ogni altra cosa si dovrà discutere la perizia sull'anziana che nonostante la veneranda età si ritrova almeno indirettamente ad affrontare un processo. Le operazioni peritali avranno inizio il prossimo 4 marzo. La bagarra tra vicini di casa assorge agli onori della cronaca proprio per la sua particolarità.